Svuotare un'azienda carica di debiti, soprattutto verso l'erario, e costituirne un'altra col solo scopo di farla franca. E' quanto stato accertato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, che ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa al Tribunale di Vibo nei confronti di tre persone fisiche che operano nel settore delle costruzioni navali. Secondo le fiamme gialle, i tre responsabili avrebbero distratto dall'attivo aziendale risorse finanziarie con distrazione anche di beni aziendali, del marchio e dell'avviamento in favore di una nuova società, tentando di sottrarli così all'azione di recupero da parte dell'erario. Si tratta di circa 4 milioni di euro di tasse e di circa 200 mila euro di debiti verso i dipendenti. Il provvedimento riguarda il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per sei mesi e il sequestro dei beni immobili e immobili facente parte del compendio aziendale della società operante nel settore della canteristica navale del valore di alcuni milioni di euro, nonché di una somma di quasi 700 mila euro riconducibile alle condotte contestate agli amministratori, quale illecito profitto degli reati commessi. Agli indagati è stato inoltre contestato il reato di autoriciclaggio, perpetrato mediante l'impiego delle somme illecitamente sottratte alla fallita azienda, allo scopo di investire nella costruzione di una nuova società priva di debiti, operante nello stesso settore e nei medesimi locali.